Ci sono però tante altre cose in questo sabato e questo fine settimana, insomma, quali sono le salienti per fare un appuntamento per tutti gli ascoltatori? Dunque, il pomeriggio ovviamente iniziamo, sempre sapete che lo sport e il carnevale vanno proprio di comune accordo. Alle 15 al campo Falcone-Borsellino ci sarà un incontro di rugby e all'Aventurini un incontro di box. E' il secondo incontro di box a cura dell'Audax Box Club Metauro. E poi la sera concludiamo con il grande veglione del carnevale di Fano, il dado e tratto alla Cascina delle Rose. Quindi ci saranno tanti personaggi storici da scoprire e magari ci capiterà di cenare con Napoleone o con Garibaldi, vai a capire come andrà. Il dado e tratto, un vago cenno alla romanità, insomma, è dovuto. Eh beh, certo, siamo in una città romana, quindi assolutamente dovuto. Musica e animazione, insomma, sarà una serata tutto-to. Ovviamente si cena, si balla, ci si diverte, ci saranno gli Zebra 3 che faranno un live e poi i DJ set fino a tardanotte. Raccogliamo un po' di forze perché poi domenica c'è l'ultima sfilata, immagino che per voi, insomma, sia un po' l'addirittura d'arrivo di questa seconda edizione, come gestione vostra del carnevale. Eh beh, certo, comunque diciamo che essendo la terza siamo tutti più rilassati perché ormai tutte le prove le abbiamo superate tutte. Quindi penso che, insomma, non ci saranno nessuna difficoltà e poi martedì chiuderemo con il Ruogo del Pupo e con un bellissimo spettacolo di tarocchi e fuoco. Quindi tutto dedicato al fuoco martedì grasso. Grazie.